Ciao a tutti ragazzi sono Alien e oggi sono qui sul canale del clan a proporvi un nuovo video E si è da tanto che non sono attivo sul canale del clan quindi oggi mi hanno chiesto di proporre un commentary dato che nessuno poteva farlo E quindi ho detto vabbè si perchè no non sono da tanto cioè non carico niente da tanto qui sul canale quindi magari vi può far piacere sentire la mia voce ecco Anche se non mi si inculla nessuno Comunque il gameplay di sottofondo è un gameplay di Genna su Ghost che è capace a farli solo là quindi poverino andate ad iscriversi al suo canale che c'ha 1000 iscritti Le ha raggiunti oggi E' una tripla cam su Warhawk in solo ovviamente equivalent sono 54 gunstreak più 25 mi sa Non so se era con specialista o con supporto mi sa con supporto E niente quindi questo è il gameplay l'arma era la solita un invadger Non so la classe La classe che utilizzo io su Ghost è concentrazione silenzio di tomba No concentrazione e amplificazione Predatore Inflessibile Con poi giochi di prestigio Prontezza Chacall Centro perfetto Estrazione rapida E quindi credo più o meno la classe sia questa Ah e agilità E maratona E vabbè niente non mi ricordo più i perk di Ghost Comunque oggi non è un argomento di cui parlarvi Perchè non sono capace Cioè non so di cosa parlarvi più che altro Quindi boh più o meno vi dirò cosa è successo Perchè non sto più portando video eccetera Anche se dopo che ho promesso sul mio canale di continuare eccetera E niente diciamo che Code quest'anno non tanto mi è piaciuto Devo dire la verità All'inizio sono stato il primo a fare il Code Nuclear in Italia Dopo che si era scoperto veterano Tipo dopo un giorno o due E già da là ho capito che comunque anche i più ritardati sarebbero riusciti a fare qualcosa Poi comunque il mio obiettivo non era giocare pubblica quest'anno Infatti come forse pochi di voi sanno Gioco diciamo competitive Cioè non ho un team ma comunque faccio UMG Wager con Kratos E altre persone che non giocano pubblica Che conosco appunto E niente devo dire che comunque raga E' stata una scelta di cui non mi pento Magari sul prossimo Code se la pubblica sarà bella Su Infinite Warfare Magari ci farò un pensierino Magari tornerò a fare qualche video sul mio canale Che ho lasciato oramai inattivo Avevo anche avuto l'intenzione di venderlo Solo che diciamo che Per quelli che mi seguono da più tempo Sanno quanto io abbia faticato su quel canale Ecco comunque c'ho 3200 iscritti Fatti in un anno e mezzo Anzi ne faccio Faccio due anni di Di canale Tipo domani credo Devo dire che ho avuto sempre Degli standard alti Caricavo video sempre Non facevo mai mancare un video Di un appuntamento ecco Quindi un po' mi dispiaceva E quindi ho deciso di tenerlo Cioè so che è brutto anche per me Tenerlo lì nudo diciamo Senza nessun video caricato Cioè senza upload costanti eccetera Però non voglio buttare Le mie diciamo I miei obiettivi che sono stati raggiunti su Su quel canale Sono a 4 minuti di commentari Dove non ho detto niente Dino mi ha detto di farlo In più o meno 5 minuti Comunque vi volevo ringraziare Per il supporto che avete dato Nei vaporizzati Se non l'avete visto Passate e lasciate un like Perché abbiamo fatto Abbiamo vinto una partita 60-0 su frattura E c'era anche Lama con noi C'era anche io in quella partita Zodiac è diciamo Tornato attivo nel gruppo del clan Eccetera Quindi magari aspettatevi Qualche video da lui Adesso è malato Quindi non può registrare Eccetera E niente Sappiate solo che comunque È interessato a fare Qualche genere di video con voi Quindi se magari andate su facebook Il link è in descrizione Followate la pagina Dove dato che lui fa dei post A volte dove chiede di aggiungerlo Per fare Che ne so Zodiac dice O fammi ridere O muori Eccetera Magari Che ne so Se a Matt servirà una mano Lo aiuterò anche io A fare Un video del genere Dato che Sono davvero divertenti Ecco Magari anche qualche video Di nascondino Tanto per E niente ragazzi Io sono a 5 minuti e 10 Di Di commentari Se Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Passate dal canale di Jenna Mi raccomando Che è la cosa più importante Del video Diciamo Spero Vi abbia intrattenuto abbastanza Comunque Se volete Casomai Sapere Cioè Se volete Sapere Avere qualche informazione Riguardante me Che fino abbia fatto Scrivetemi nei commenti Che Sarò lieto di rispondervi Ecco Comunque Mi interesso sempre Al clan Dato che Non tanto per i video O il canale youtube Ma perché Ho comunque Instaurato dei rapporti Di amicizia Belli Ecco Al suo interno E niente raga Qua da Alien è tutto Spero vi sia piaciuto Non bombardatemi Di insulti Nei commenti E bella Non ti piace I gtf Finchia Ammazzati Finchia sparati Quando arrivo Devi farmi passare